Sulla questione dei conflitti interni, ovviamente e probabilmente mi riferivo a conflitti interni all'ambito dei movimenti sociali. In questo ultimo periodo abbiamo appena concluso un ciclo di incontri che si è dedicato proprio a questo, il cui titolo era Un limone in tasca. Abbiamo scelto il limone come un po' simbolo, sia della digestione del conflitto, ma anche come un oggetto che ci portiamo nella piazza per gestire il conflitto di piazza. Una delle critiche anche che viene fatta alla questione della giustizia trasformativa è che vogliamo eliminare il conflitto, che è quello che poi per noi che apparteniamo ai movimenti sociali è anche motore di cambiamento. La questione del conflitto interno ai movimenti sociali è in realtà molto, parlo di conflitti e non di violenze, è molto dibattuta, nel senso che la questione è cercare di non rompersi davanti alla minima difficoltà e quindi come facciamo a superare le polarizzazioni all'interno dei gruppi e avere anche la possibilità di ottenere delle comunità abbastanza solide da poter addirittura attraversare processi trasformativi in seguito alle violenze. Questo è appunto l'idea di provare a imparare a superare i conflitti interni per, c'è uno slogan in inglese che dice vogliamo prenderci cura di noi per poter essere pericolosi insieme, cercare appunto di costruire queste pratiche attraverso la costruzione di una solidità interna. Per quanto riguarda diciamo anche le pratiche dell'abolizionismo femminista, io credo che uno dei limiti appunto di cui parlavamo prima sia quello di riconoscere che forse le idee prodotte dal femminismo bianco occidentale non possano essere calate su tutto il mondo, ma anche su tutti i mondi che esistono all'interno delle nostre città, sulle periferie delle città, sulle zone che non sono toccate da quella sorta di idea emancipatoria che ci viene un po' calata appunto da questo tipo di elaborazioni e che poi ci rende molto difficile agire il cambiamento. Io faccio soltanto degli esempi. Quello che è risultato in alcune aree periferiche delle città statunitensi dove viene applicata la giustizia trasformativa è ad esempio cominciare a sviluppare delle pratiche culturally specific, che in inglese vuol dire specifiche per la cultura a cui si fa riferimento, dove la violenza è avvenuta. Ad esempio abbiamo comunità migranti su cui viene spesso calata un'idea di sicurezza e un'idea di possibili conseguenze alla violenza di genere, possibili percorsi in seguito alla violenza di genere che non sempre valgono per quella comunità perché l'organizzazione interna di quella comunità non risponde alle elaborazioni femministe che noi cerchiamo di calare su quella cultura. E si è visto che facendo dei percorsi che sono culturally specific si riesce ad essere più efficaci. In generale siamo deprivati a livello di tessuto sociale, di figure che si dedichino in maniera formata alla risoluzione, alla trasformazione, alla rieducazione e io parlo sempre di politiche dal basso, parlo sempre di figure che la comunità stessa può produrre e in questo modo ridurre, ridurre la violenza che viene generata anche dallo Stato. Altre idee per praticare alternative sono diventare ancora, superare questa idea un po' diciamo c'è una difficoltà a pensare che dobbiamo occuparci anche degli uomini, no? Noi come femministe dobbiamo prenderci cura di quelli che agiscono violenza? La risposta non è così semplice, però a me piacerebbe dire e poter dire più liberamente del fatto che non vogliamo fare questo perché siamo di buon cuore, ma perché risulta essere più efficace. Ci sono persone che si stanno formando per riuscire a lavorare anche con gli uomini e questo non deve essere più un tabù, ma in questo periodo vedo che si stanno portando avanti i progetti del genere ed è chiaro che si sviluppano anche delle criticità e si sviluppano anche degli scetticismi davanti ai percorsi di autocoscienza maschile. Per quanto mi riguarda sono percorsi che dovrebbero sempre partire dal basso ed evitare l'idea della visibilità, no? Per me un gruppo di autocoscienza maschile probabilmente prima di essere visibile, prima di poter produrre teoria o produrre elaborazioni, ha bisogno di lavorare molto su se stesso. Io non so se in Italia possiamo parlare di… sicuramente ci sono dei gruppi che stanno nascendo in seno ai movimenti, non so a livello storico quali sono i gruppi che hanno lavorato sulla questione dell'autocoscienza maschile, quindi non mi posso esprimere su questo. Però sappiamo che dai gruppi di autocoscienza maschile possono nascere anche delle… possono emergere alcuni dei bisogni di cui le comunità potrebbero giovare per evitare il nascere di conflitti e all'estremo di violenze. Abbiamo bisogno di supporto alla genitorialità, di infrastrutture sociali nei quartieri. Tantissimi esempi vengono da quartieri che durante il periodo pandemico, ma anche dopo, mi sono arrivati racconti di persone che hanno notato che il fatto di essere presenti fornendo beni di prima necessità all'interno dei quartieri, questa sola attività è riuscita a diminuire i casi di violenza. Perché uno dei fattori che all'interno di comunità chiuse determina il verificarsi della violenza è molto di più l'isolamento e l'alienazione dalla società. Per cui ritorniamo a quei margini che non dobbiamo sicuramente romanticizzare, ma in cui effettivamente si producono delle alternative a cui spesso non diamo nessuna importanza. Sappiamo benissimo che lo spazio della trasformazione, della rieducazione si sta riducendo tantissimo, si sta chiudendo tantissimo e sappiamo benissimo che se una violenza si verifica in territori come quelli di Caivano arriva l'esercito, ma se una violenza la agisce il figlio di Larussa o il figlio di Grillo non arriva di certo l'esercito, ma abbiamo una copertura mediatica che permette di vittimizzare, di dipingere come vittima imperfetta chi ha subito la violenza e far scomparire dal quadro chi l'ha agita. Grazie a tutti.